Al terzo posto per il pubblico a casa 6 punti Donatella Milani Al secondo posto 8 punti Jessica Morracchi E al primo posto 10 punti Paolo Vallesi Che va a 92 punti e vince la seconda edizione di Ora o mai più Paolo Vallesi Paolo Vallesi vince Ora o mai più seconda edizione Ti consegna intanto il premio Ornella Manoni Ornella viene a consegnare il premio a Paolo Vallesi Veramente voglio ringraziare Ornella per quello che ha fatto per me E' stata veramente una coach di un'altra categoria Grazie, grazie a tutti voi sono state 6 settimane meravigliose Attenzione Ornella che hanno la mania di sparare i coriandoli per forza Ma attento E se permetti Amadeus oltre che ringraziare Ornella che veramente sei stata più di un coach Sei stata una cosa meravigliosa, sei un artista, ti conoscevo come artista Ho potuto conoscerti come donna e sei veramente una grandissima persona Grazie Permettemi solo un secondo Che questa vittoria l'ha voluta il pubblico da casa Sostenendoci dalla prima puntata Vi ringrazio veramente perché mi avete regalato una gioia che pensavo non mi potesse essere più donata Come hanno detto una volta i maestri, hai vinto senza sapere questo ma ti avevano detto alla prima puntata Paolo, bentornato E' vero, lo ricordo e li ringrazio tutti perché sono stati veramente dei grandi Abbiamo fatto musica, questa è la cosa più importante E chiudiamo con il tuo inedito Chiudo con il mio inedito senza non salutare mio figlio Chi è qui che quando ho vinto Sanremo ancora non era neanche nei miei sogni di padre Vedere la sua faccia orgogliosa mi riempie di tanti momenti Vieni, 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 vieni a complimentarti con papà Attenzione a non scivolare, il nome? Francesco Francesco Eh vabbè Molto più bello di me Però, grazie veramente Ornella, grazie a tutti voi Veramente grazie di questo momento Questo lo tengo io ma te lo restituisco tra un attimo Grazie Rimani, mi porto via Ornella Ma ti faccio cantare il tuo inedito tenendo vicino a te tuo figlio Ah no Perché ora riparti da lui e con lui, va bene? Grazie a tutti voi, grazie Mi avete regalato un sogno, grazie Paolo Valesi vince ora o mai più Se potessero i sogni come libri di scuola Quante impronte ha lasciato questa piccola sola E due occhi un po' pigri ma curiosi di vita Un insetto rinchiuso da una foresta infinita Se trovassi il coraggio io guardando ai tuoi occhi Ti direi amore mio già così siamo ricchi Se potessero gli angeli farmi passare la paura che ho di morire E se la prima volta che ho incontrato te Avessi smesso di combattere Per poi cercare non sapere cosa Non sapere cosa Se ci fosse un modo per raggiungersi E perdonarsi e ritrovarsi ancora E rincontrarsi e innamorarsi ancora Quello scoglio era alto e mi fa ancora paura Il costume è più stretto ma la voce è sicura Era dura lasciarsi per lasciarsi andare Ma è così che ho imparato a volare E se la prima volta che ho incontrato te Avesse smesso di combattere Per poi cercare non sapere cosa Non sapere cosa Se ci fosse un modo per raggiungersi E ritrovarsi e innamorarsi ancora E rincontrarsi e innamorarsi ancora Un'altra volta innamorarsi ancora Grazie! Paolo Valesi vince la seconda edizione di Oro Mai Più Grazie, grazie! E ti aspetto sabato prossimo Quando faccio i soliti gnoti in prima serata Devi accantare in lei tu da me, eh? Assolutamente! Posso anche ringraziare i miei compagni di squadra Non sono stati avversari perché mai più Non deve essere accostato non solo a nessuno di noi A nessuno che si rimette in gioco E cerca un'altra volta il giudizio Grazie a tutti voi!